Perfetti Vammelle ha scelto un futuro zero plastica in ufficio e in fabbrica. Perché zero? Perché nel 2018 abbiamo ottenuto dei numeri che non ci sono piaciuti. Quali? Nella sede di Lainate abbiamo consumato 81.900 bottigliette di acqua, 6.300 bottigliette di bevande varie, 8.100 bicchieri in plastica, 992 kg di bicchierini caffè da distributore, 2.270 kg di plastica per un impatto ambientale di 4.800 kg di CO2. Se non vogliamo che diano i numeri l'ambiente e il nostro pianeta, è meglio cambiare strada, atteggiamento e perché no? Pausa caffè. Per questo, 1. Abbiamo eliminato i distributori automatici a favore di erogatori di acqua filtrata. 2. Abbiamo sostituito il bicchierino di plastica da caffè con quello in carta e paletta di legno. 3. Abbiamo dato ad ogni dipendente un termos Perfetti Vammelle. 4. Abbiamo sostituito qualsiasi referenza in PET nei distributori con quelle in alluminio o tetrapack. Noi di Perfetti Vammelle abbiamo i numeri e la voglia di cambiare le cose per cominciare a muovere i primi passi verso un futuro migliore.